Buon salve a tutti, io sono Roberta e benvenuti in questo nuovo magico video. Se la scorsa volta abbiamo fatto la recensione di un libro che doveva parlare di fasi lunari e della magia delle fasi lunari, ma in realtà finiva per essere misogino, oggi invece andremo un po' a colmare quel vuoto e quindi andremo a parlare della magia delle fasi lunari. Orecchini, infatti, a tema. Non andrò ovviamente nei dettagli, quanto più cercherò di spiegare in che modo vengono concepite le fasi lunari all'interno della magia, con i loro significati e magari qualche rituale da fare. È importante sottolineare quanto la luna sia importante all'interno della nostra pratica spirituale. Anche al di fuori di certe pratiche in cui si venerano divinità lunari, come per esempio Selene o Artemide, la luna è uno dei due astri più grandi del nostro cielo insieme al sole e il suo ciclo scandisce la nostra vita. E non nel senso misogino delle donne che sono come la luna, lunatiche e soprattutto hanno il ciclo. Assolutamente no, anche perché la magia è adatta a tutti i generi e tutti i sessi. Però è ovvio che la luna, essendo molto grossa, abbia un forte impatto a livello energetico su di noi ed è sempre stata utilizzata dall'essere umano per scandire il tempo insieme al sole. Quindi non è raro, per esempio, vedere sulle mensole dei nostri nonni dei manuali di giardinaggio in cui si spiega che si piantano i semi nella fase di luna crescente o di luna nuova e cercano di spiegare anche a chi ha solo la quinta elementare un po' di questo mondo di astronomia. Poi in ambito magico potremmo anche aggiungere il lato astrologico, ma non è questo il nostro punto oggi. Ci baseremo su delle concezioni di base e quindi andremo a scoprire le cinque fasi lunare all'interno della magia. La luna nuova, luna crescente, luna piena, luna calante e luna nera. Che in alcune tradizioni la luna nuova e la luna nera corrispondono e si sovrappongono, però noi andremo a specificare meglio questi due eventi, perché credo che sia utile fondamentalmente. Partiamo per l'appunto con la luna nuova, che è non la luna completamente nera, ma c'è un piccolissimo spicchio che sta iniziando il ciclo della luna. E questa parola inizio è proprio la parola chiave di tutta questa fase lunare, ovvero iniziare un nuovo percorso. Quindi per esempio iniziare a mettere i semi per il nostro percorso spirituale, oppure cercare le prime fasi di un incantesimo che poi si proterrà durante tutto questo arco, fino alla luna piena. La luna nuova è un periodo soprattutto di pianificazione, dove si mettono a posto determinati tasselli per far sì che il nostro percorso di crescita possa essere senza ostacoli. Ma la fase principalmente di attività e quindi proprio di inizio fisico è quella della luna crescente, che appunto simboleggia una fase intermedia tra la luna nuova e la luna piena, dove i rituali lunghi che si sono iniziati sono nel bel mezzo, non dei preparativi ma proprio dell'azione, e dove quindi è molto utile per esempio andare a fare rituali di abbondanza, fertilità, di manifesting se ne facciamo. Proprio perché le nostre energie sono già in cammino, si sono reindirizzate all'inizio della luna nuova e adesso stanno procedendo. E noi cerchiamo di reindirizzare magari il tiro meglio, per far sì che sia più di impatto il nostro lavoro. Così che quando noi arriviamo alla luna piena tutto sia a posto. Questo perché la luna piena non è il periodo della luna dove c'è più energia possibile, ma semplicemente ci arriva più direttamente. La luna piena quindi agisce un po' come una lente di ingrandimento. Tutte le energie che ci sono state in questi preparativi e queste fasi di intermedie si amplificano. È il momento per concludere questi rituali lunghi che abbiamo iniziato con la luna nuova. È un momento anche per rendere grazie di tutto quello che ci sta arrivando e per mettere una fine a tutto. Proprio perché le energie sono amplificate, solitamente si tende a fare l'acqua di luna proprio in questo periodo, ovvero la fase di luna piena, e si tende anche a disporre i propri oggetti magici come per esempio le pietre sul davanzale per lasciarli purificare e caricarsi di questa energia. La prossima fase, la penultima, è quella di luna calante. Ormai abbiamo già fatto tutto, l'abbiamo iniziati, i nostri rituali li abbiamo portati avanti, li abbiamo conclusi. Questo è il momento per tirare le somme, vedere cosa siamo riusciti a fare, quali sono stati i nostri risultati, vedere magari prossima volta cosa possiamo fare meglio. È il momento anche per curarci, magari abbiamo speso tantissime energie prima e quindi adesso è il momento di riposo, di relax, di raccoglierci magari in fase meditativa per capire come poterci riequilibrare per poi reiniziare un altro ciclo. La luna nera, che è proprio quando la luna non si vede nel cielo, è l'ultima fase e secondo me è quella più riflessiva, dove dobbiamo concederci allo shadow work, dove dobbiamo rimuovere tutti gli ostacoli e se necessario anche nasconderci nel suo buio. Ovvero, se per rimuovere alcuni ostacoli, come per esempio delle persone o degli eventi, dobbiamo fare magari una maledizione, non tutti le fanno, ma se ce la sentiamo magari è possibile farne, proprio in questa fase dove ci nascondiamo al buio, ovviamente non fisicamente, bensì è una cosa metaforica. E dopo questa fase di shadow work, di capire di cosa abbiamo bisogno e cos'è stato il nostro passato, di rimozione degli ostacoli, si ricomincia da capo con la luna nuova. Ed è un ciclo che non finisce mai, così come il nostro cammino spirituale non avrà mai fine ed è infinito. Voglio però in questo punto precisare una cosa molto importante. Questi sono solo dei consigli generali se volete lavorare con le fasi lunari, ma se avete emergenza di fare qualcosa, per esempio dovete fare un rituale di cura e non siete in una fase di luna calante, non vi preoccupate, potete farlo assolutamente. Semplicemente se ci allineiamo con la luna, abbiamo più possibilità di essere aiutati, diciamo, e di amplificare le nostre energie, ma non è una cosa necessaria. E ci sarebbero tantissime altre cose da dire, per approfondire, ma credo che per questo video di infarinatura generale possa bastare. Quindi io vi ringrazio tantissimo per tutto il supporto e il supporto. Vi invito ovviamente a iscrivervi e magari passare dal mio show pezzi, link qua sotto in descrizione. Ma appunto per oggi è tutto. Noi ci rivediamo in un prossimo video, ma fino ad allora, ciao ciao bimbi belli! Niafone! Grazie a tutti